ciao a tutti vediamo come rinfrescare la pasta madre eccola qua come vedete non ne tengo molta da parte perché altrimenti poi con il raddoppio diventa tantissima allora io ci tolgo la parte superiore che dovrebbe essere un pochino più secca quindi poi prendo la parte centrale da rinfrescare ho preparato la bilancina il recipiente tolgo la tara e rinfrescherò adesso 100 grammi scusate che ancora l'etichetta ho cambiato il recipiente prendete un barattolo di vetro dove vi entra bene la mano così potete staccare bene la pasta madre allora rinfrescherò 100 grammi di pasta madre metto un'altra pochina giusto i 100 grammi ma volendo anche 50 grammi se non la usate spesso è quindi questi sono 100 grammi di pasta madre io dovrò mettere la metà in acqua quindi 50 grammi meglio tenersi un po sotto dei grammi che in più infatti metterò 40 grammi 48 grammi però la dose giusta il 50 per cento quindi 50 grammi mai superare i 50 grammi piuttosto sotto che sopra poi sciolgo la mia pasta madre o l'acqua a temperatura ambiente né calda né fredda temperatura ambiente io metto quella che prendo la fonte attenzione a non mettere acqua che contiene cloro è se la mettete del rubinetto la tenete un pochino ferma dentro recipiente quindi sciolgo direttamente con le mani si lo so che qualcuno di voi fa frulla planetari eccetera ma io ho sempre fatto così ho lavato le mani con acqua quindi niente crema mani pulitissime senza sapone eccetera con acqua e sciolgo ecco qua non serve farla diventare tutta liquida e se rimane qualche pezzettino non è importante eccola qua in questo modo così così è pronta da poter aggiungere la farina rimetto sulla bilancia qui volendo si potrebbe fare anche occhio perché ormai oramai ho imparato la consistenza della pasta madre se la faccio a occhio poi quando vado a pesare mi viene perfetta però ora per voi faccio vedere quindi vado a mettere adesso 100 grammi di farina quindi avrei visto tolgo la etara e aggiungo i 100 grammi di farina io sempre questa questa pasta madre nata con la zero ma una zero naturalmente buona quindi cerco di usare sempre la stessa marca però volendo si può fare anche con la 1 però questa mia è nata con la zero e continuo con la zero ok il barattolo eccolo qua questa che è rimasta o la butto la uso per fare qualche altra cosa la rinfresco la uso per il pane in questo caso adesso la butto quindi ho preso la parte centrale non fatevi problemi per buttarla quella pochina che rimane all'inizio e sotto buttatela tranquillamente dopo tutte acqua e farina ok dopo che ho impastato un po' con le mani la lavoro sul piano di lavoro un pochino e niente di che fino a che non diventa bella compatta raccolgo tutti i pezzettini ed ecco qua faccio una sorta di pieghe guardate così arrotolo ok ci sono già altri video sul canale ma questo ho voluto rifarlo perché qui ho spiegato meglio ecco qua abbasso un pochino e piego e ci siamo come vedete ci vuole pochissimo eh non ci vuole molto una volta preso presa la mano sono cinque minuti dieci minuti massimo io adesso qui perché sto facendo le riprese perché sono altrimenti la cosa è velocissima formo la palla ci faccio questa classica croce che è una cosa che si porta dall'antichità nei tempi antichi richiamava la croce la croce però dei cristiani diciamo della religione però diciamo che serve a vedere la lievitazione perché se vedete al centro questa se la lasciamo un pochino già si apre e cresce si vedono i buchini quindi è utile anche per quello ora il barattolo non serve lavarlo ogni volta guardate se riuscite a mettere bene dentro la mano vedete io adesso lo pulisco così vedete non serve star lì a anzi alcuni maestri dicono proprio di non lavarlo perché dentro ci sono rimangono i batteri proprio della pasta madre vedete è pulito la rimetto dentro al limite lo lavate ogni tanto con l'acqua bollente e adesso volendo potete anche metterlo dentro e fare la croce direttamente dentro però io faccio così lo aggiusto ecco qua e la mia pasta madre è rinfrescata come vedete ne rinfresco poca perché altrimenti poi raddoppia sempre vi ritrovate una marea di pasta madre questa se io dovevo usarla per fare il pane invece di 100 rinfrescavo un pochino di più 150 in modo che poi mi tenevo il pezzo per fare il pane lo lasciavo a temperatura ambiente per quattro ore ma questo già lo sapete no se seguite le mie ricette lo sapete copro con pellicola faccio dei forellini così piccolini e poi lascio un'oretta fuori dal frigo dopo la metto in frigo d'estate invece va subito in frigo ok può stare in frigo fino a 6 giorni anche se io la rinfresco molto prima perché lo uso spesso però è consigliabile non superare 6 giorni al massimo 7 ok ciao a tutti e grazie della visione